Un salve da terra morgiana. Allora, come vedete, sto vicino al caminetto perché siamo qualche giorno distante dal Natale del 2017. Io ringrazio sempre coloro che mi telefonano insistentemente, eccetera, perché non so a chi possa piacere, perché io faccio i miei commenti, faccio le mie chiacchierate, ma dopo tutto non è che dico delle grandi cose, dico quello che avviene nella vita quotidiana e che anche voi vedete. E queste persone invece insistono nel dire, non so, forse sono diventate la voce del popolo, la voce dell'ignoto, la voce può darsi, tutto può darsi. In effetti c'è da dire. Dunque mi è arrivato questo De Vlian, del comune di Cassano, ricicla che la tradeco, che per fortuna pare che abbia ripreso il proprio lavoro, il proprio compito, eccetera, perché essendo una ditta locale, ovviamente io preferisco le ditte locali e no, le ditte che appartengono ad altri paesi, perché qui c'è la necessità del lavoro, qui c'è la necessità delle famiglie che devono mangiare, quindi ho piacere. Vedo che è stato firmato dalla sindaca Maria Pia di Medio, vedo che il Briano, l'assessore Biano, Carmelo Briano, anche lui, non lo so che mano ha dato, comunque, è la tipologia delle raccolte dei materiali di scatto, i materiali di rifiuto che vengono fatti. Il De Vlian è stato fatto abbastanza bene, le giornate sono state chiarite abbastanza bene, e non c'è nulla da dire sul De Vlian, finalmente c'è una cosa buona a casa. Tutto il resto, beh, tutto il resto non è che mi dia troppa soddisfazione, ma la soddisfazione è più per la popolazione, per coloro che hanno creato l'amministrazione, non dimentichiamo, che ogni pagina devo fare bloccizzare il fuoco, se non si spesa, anche lui ha bisogno di alimentazione. E allora dicevo, se le cose vadano bene, bene, non si può ridurre, ci sono molte, molte mancanze, e adesso come immediatamente si riprende, e basta un po' di soffiare. E dicevo, non vanno bene, ma diciamo la verità, non vanno bene. C'è una specie di incomprensione tra i componenti dell'assessorato. Non lo so derivante da cosa, non ho ancora capito quali sono i principi che guidano queste persone, che dopo tutto i cittadini pagano, perché i cittadini pagano, e non 1.300 euro, magari 1.300 euro, insomma, pagano i cittadini e nulla viene regalato. E dovrebbero fare il loro dovere. All'onore del vero, quello che più si muove in questi ultimi tempi, sto notando, è Briano. Ma Briano si era già mosso nel precedente mandato della Di Medio. È un uomo attivo, è un uomo che proviene dai carabinieri, non è che si è comandato dai carabinieri, maresale, eccetera. E' un uomo che sa il fatto suo, e sa come poter fare bene il proprio lavoro. Gli altri, purtroppo, non lo fanno. Molte promesse non mantenute, c'è una serie di cose che praticamente non hanno fatto. Ma adesso chiudiamo la parentesi, che alzano delle bocce, e andiamo a quella nazionale, il 4 marzo, 4, 6, 4, marzo prossimo, 2018, ci saranno le elezioni nazionali. Quindi, ognuno si sta dando da fare, poi si è creato, qui ognuno deve, sta tentando, tenteranno di superare il 40% dei voti per poter poi vincere. Eh, il 40% non è poco, è piuttosto alto, e bene hanno fatto ad alzare la quota. E quindi, ci sono intese, sottointese, quello si mette d'accordo con quell'altro, pare che abbiano fatto un accordo, extra accordo, formato da tutti quelli che prima erano qualche cosa, adesso non sono più niente. Allora, per riuscire a mettersi i vari A.N. di prima, il solito Raffaele Fitto, il quale prima se ne va da Berlusconi, poi va a tornare a Berlusconi, insomma, tutte queste cose, che non hanno molta chiarezza, e quindi non godono le mie simpatie, anche se le mie simpatie valgono poco. Comunque, c'è uno scontento generale a livello nazionale, perché qua si parla delle famose, le pensioni degli anziani, le pensioni sociali, non si è fatto nulla, non si sta facendo nulla, esistono ancora pensioni di 200 euro al mese, immaginate cosa uno possa mangiare con 200 euro, e già esistono ancora. ma qual è la verità? Anche l'Inps comincia a star maluccio, ma anche l'Inps ha le sue ragioni. Se una parte dell'entrata dell'Inps viene data ai deputati, a quelli che se ne sono andati via, le pensioni di oro, le pensioni di brillanti, non si capisce che genere di pensioni prende questa gente, anche se la televisione insiste su questo argomento, perché per la verità sta insistendo su questo argomento, e nessuno non ne tiene conto, perché quegli stessi che dovrebbero tenerne conto prendono loro quelle pensioni, quindi come fa uno a parlare delle pensioni che prende, può mai parlare male delle pensioni d'oro che lui prende, ma non parlerà mai male, farà finta di dire una mezza pensione, adesso si usa a dire se lo fa quello lo faccio anche io, e perché lo deve fare quello, fai lo prima tu e poi farà quello, ma tutte queste cose non si devono dire, comunque il Natale è prossimo, ogni giorno, ogni volta, si dicono le stesse cose, la gente diventa buona, auguri, 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 nessuno dice auguri, di che cosa, auguri se è quello che deve morire, se gli auguri un male, se gli auguri un bene, no, si capisce, niente, perché anche anche gli auguri molte volte sono falsi, e invece fanno il presempio, ma non lo fa il presempio, in casa, ognuno, quelli che lo fanno, perché per me l'albero è di importazione americana, quasi americana, non è certamente cristiano, il presempio è rimasto cristiano, non dimentichiamo che il presempio è stato dato vero, il presempio pare che sia antico quanto lo stesso Cristo, quanto lo stesso Gesù, pare che dopo la morte di Gesù qualche d'uno per ricordarla ha cominciato a fare un piccolo presempio, non so, lo farà con le pietre, non lo so come lo farà, comunque la storia non dice, la storia ha veramente di ogni argomento dice poco, comunque dice ciò che gli conviene, anche la storia dice ciò che gli conviene, il rumore che sentite, questo è un grande pari di questo e quindi il presempio, in effetti in realtà è nato il 1226 mi pare, creato da Francesco da Sidi quando dopo le sue varie peregrinazioni si è ritirato ha pensato in occasione del Natale una raffigurazione più simpatica, più gentile, più estetica, più ecclesiale più ecclesiale, allora ha creato il presempio, il greppo, il presempio, praticamente è il recinto che anticipa la capanna, la stalla, questo è tutto, poi è stato cambiato il termine oggi che ha presempio, ma in effetti quello vuol dire, ed è giusto che voglia dire praticamente un pagliaio, il pagliaio dove nacque Gesù, vabbè io potrei anche fare la domanda era un pagliaio di una gente per bene, gente che stava bene perché per stare un bue e un asinello c'erano già due animali che all'epoca avevano il proprio costo, però ci sono pettegorezze che non voglio fare comunque io da pochi anni che sono un ragazzino ancora da pochi anni saranno 75 anni che ho sempre fatto il presempio lo farò sempre di tradizione lo facevano lo faceva mia nonna le mie zie l'ha fatto mio padre per anno lo faccio io e lo fanno anche i miei figli sono quelle tradizioni che uno mantiene forse inconsciamente può darsi che lo faccia inconsciamente può darsi che lo faccia per venerazione per fede dategli i termini che volete l'importante è che si fa a chi piace farlo l'importante è che lo fanno a Gesù il bambino Gesù non lo so se si pensa più o se si pensa meno non so se tutta questa gente buona la gente molto buona fa tutto fare il bene fa del bene molto bene soprattutto a se stessi soprattutto a tutti quelli che fanno bene i ricchi i famosi ricchi i tradizionali sono quelli che fanno bene a se stessi va bene io credevo per dire la verità le vorrei nominare anche determinate persone che con insistenza mi seguono cioè mio nipote che forse è uno di quelli che mi segue di più non lo so se mi segue per simpatia o per antipatia conclusione caro Pierpaolo io ho parlato questa volta spero che tu sei contento che poi le mie chiacchierate non ho capito come fanno ad accontentarti va bene ognuno sei seguito dunque c'è altro da dire ma non onestamente non lo so non mi ricordo perché prima di parlare dovrei dire tante cose poi quando comincio a parlare mi accorgo di parlare di essenziale eccetera c'è poco potrei fare un'osservazione su quello che l'altro giorno ho saputo pare che i pregi locali compreso quello di di Cassano pare che il sabato non dica la messa pare che si siano messi d'accordo i vari preti anche loro fanno un po' fanno il sabato facetta che lo dice che non si dice la messa io per la verità ho passato una quindicina di anni in Curia ho conosciuto tutti gli arcivescovi e questo accordo non mi ricordo che c'è mai stato può darsi che sia un accordo nuovo può darsi che sai dire messa ben tre messe chi le dice al giorno è stanchevole adesso devi alzare la mano bere il vino e uno si stanca e allora hanno pensato dice ma quasi qua è meglio che ci riposiamo il sabato e anche loro si devono riposare in chiesa che cosa fanno? ogni tanto dicono la predica fanno la riunione però in chiesa un vero canto di allegria una scuola cantorium non esiste e ai miei tempi ai miei tempi qualche anno fa qualche anno qualche decennio qualche già vi c'è un'altra sei anni fa questa roba esisteva io ho fatto parte di una scuola cantorium si cantava nella chiesa cioè la chiesa è allegria non è morto non è funerale prefunerale non sono le bizocche le cosiddette bizocche quel che vanno sempre ogni volta non sollecitano neanche il loro parroco che per la verità se giovani non lo so questo qua si giovane non lo so non me ne frega ma un prete ha il dovere di allietare una chiesa non di renderla un pre cimitero deve allegrare una chiesa a malapena forse fanno le messe cantate non lo so se cantano se non hanno più la voce non lo so queste cose comunque io rimango a quelle che è la mia fede io ho conosciuto l'ho detto di verse ho avuto il piacere di conoscere il padre Pio il padre Pio tante cose me le ha suggerite perché era un cappuccino un frate minore lui si dichiarava minore per non offendere San Francesco d'Assisi l'umiltà lo portava a dichiararsi un frate minore e lui mi ha insegnato qualche cosa comunque voglio finire come devo dire voglio finire in quasi allegria potrei anche mettermi a cantare una fascia a me se no vi faccio scappare allora buon Natale per tutti quanti per chi mi vede per chi non mi vede per gli amici e se c'è qualche nemico pure a lui gli auguro che cosa gli devo augurare al nemico di essere una persona un po' migliore l'odio non porta a nulla i rancori non portano a nulla perché ognuno di noi ogni essere umano dovrebbe ricordare che tutto nella vita si compra tutto il ricco l'altro ricco può comprare tutto la morte non la può pagare nessuno